La prima parola è una risposta alla sollecitazione di Marco, fino a che punto possiamo stare al gioco, io dico fino in fondo, finché respiriamo, nel senso che il documento della buona scuola solleva una serie di questioni che secondo me riguardano tutti i temi sul tappeto, dal nuovo contratto che appunto stare al gioco significa che il piatto è di stare già a come deve essere il prossimo contratto della scuola, stare al gioco significa anche rispondere alla domanda che c'è più all'inizio, che idea di scuola si vuole costruire, che idea di scuola si vuole elaborare. E allora, le parole chiave sono queste, una non a caso sottolineata da una RSU, la dovesse anche per prima, la prima parola è lavoro sommerso, cioè il lavoro sommerso è la questione centrale che deve preoccupare non solo le organizzazioni sindacali ma anche i singoli lavoratori della scuola, perché è una sfida che va in un certo senso accettata e dobbiamo porla con forza. La seconda questione che riguarda sempre le questioni salariali è la possibilità che ci possa essere un salario accessorio volontario, cioè tutte le cose che io faccio in più, oltre alle ore di lavoro che mi vengono riconosciute, devono essere retribute, cioè io sono il nemico totale del volontariato a scuola, questa è la mia idea, perché il volontariato impegna sentimentalmente i docenti nei confronti delle loro scuole, il prefetto del Consiglio nella sua discorso inoculare, innamorano anche la mia idea di risorse perché facciamo un tavolo a vostro ucente, o spengo, mi sono andato nel luogo, mi è bastato. Altra cosa, accettare la sfida per quanto riguarda la mobilità geografica, rilanciare significa ad esempio proporre come momento di formazione, come momento di aggiornamento, un istituto che presenta nelle altre scuole, nel primo istituto europeo, l'ho già sentito dire numerose volte, che è quello dell'anno sabbatico. L'anno sabbatico come questione, come momento cruciale, come aspetto qualificante della scuola italiana, come occasione in cui stando a scuola, ma non insegnando necessariamente tutte le 18 ore, uno si aggione. Sui temi affrontati dalla buona scuola per quanto riguarda, che cosa è, riconsideriamo, che cosa è imparare, che cosa è insegnare, che cosa è imparare a scuola. Allora, se parla in maniera molto programmatica di due tipi dell'alfabetismo, che sono l'alfabetismo informatico e l'alfabetismo finanziario, se vi ricordate, anche lì accettare la sfida significa pensare a qual è il vero analfabetismo e qual è la domanda di formazione che ci chiede ai nostri studenti. La vera materia trasversale, come lo si insegna a scuola, per usare le parole di Mario Lodi, si chiama il mondo di oggi, nel senso che il vero lodo su cui tutti ci scopriamo, specialmente lavorando in superiore, è proprio questo. La impossibilità di parlare, in tutte le materie possibili, è in tutte le materie, del mondo presente. L'analfabetismo è l'inconsapevolezza della complessità e l'assenza di strumenti adeguati, per cui agli esami di maturità, i miei, che vengono fuori, specialmente nei temi di attualità, sono delle cose devastanti, che mi hanno fatto dire, cambiano i segni, adesso non faccio l'esterno, cambiano i segni, mi metto a piante tutte le volte che vi leggo. Sulla questione scuola-lavoro, anche Marco lo sottolineava, ci si preoccupa, ma anche qui secondo me, senza l'occhiolino a qualche organizzazione, tipo la confintuzia, soltanto del manifatturismo. Anche lì accettare la sfida significa che i rapporti scuola-lavoro, dove il contatto con il mondo del lavoro può essere un tema di formazione per gli studenti, può avvenire, deve avvenire anche negli indirizzi di studio, liceari, o anche in certi istituti tecnici. Io sto pensando a tutta una serie di necessità che rappresenta il nostro Paese in questo momento, dalla valorizzazione e inventariazione dei medi culturali, fino alla realizzazione e aggiornamento della mappa geologica nazionale, che è una documentazione che è sale decenni fa. Tutte queste occasioni, che sono occasioni di formazione, di contatto con la concretezza delle diverse professioni, se non è solo volutamente tralasciate, così come tralasciata, altra parola d'ordine, la questione della formazione permanente, cioè l'istruzione degli adulti, l'istruzione, il ritornare a scuola per aggiornarsi, a prescindere dalla professione che si fa, il diritto di essere aggiornati e di andare a scuola fino a che si canta. Perché dal mio punto di vista, anche dal mio punto di vista, che inizio che via di scuola non si smette mai di imparare, usando sempre l'offer. L'ultima cosa che dico riguarda la democrazia nella scuola. Anche grazie a una misura come quella del 66%, nella scuola di Gianni di Renzi c'è un'idea che è lontanissima dalla coesione sociale e dalla scuola come luogo di confronto. Perché in una scuola dove gli insegnanti sono messi in competizione, non contro l'altro, non ha senso che ci siano degli organi collegiali che prevedano la partecipazione, che prevedano il confronto, che prevedano anche il contributo esterno delle famiglie. Infatti, come vedete, la parte dedicata ai organi collegiali è cancellata. Secondo me, in maniera molto, davvero populistica, si strizza l'occhiolino tutti quelli che dicono che palle tutti questi consigli di classe. Anche questo, che palle tutti questi consigli di classe, di rottura, di balle, perché cavolo e leggiano questi qui che fanno tre volte per tre e mezz'ore in un anno. rispondono a un sentimento comune che dipende dalla crisi degli organi collegiali ma che non propone nessun'altra alternativa. E anche lì, bisogna accettare la sfida immaginando che ne facciamo di quelli che ci sono adesso e di quelli che cambiamo. Scusate, non cambiamo. Vincere queste cose.